Ciao amici di Seguendo il suo disegno e benvenuti a questo video in cui parleremo di quello che stiamo facendo adesso, una storia al giorno. Come avete potuto vedere o ascoltare in questi giorni abbiamo letto una storia al giorno e il libro dal quale abbiamo tratto queste storie di cui abbiamo condiviso solo il titolo e una parte della storia che ci è piaciuta di più o qualche caratteristica di qualche personaggio o qualche pensiero su queste storie che stiamo leggendo. Questo è il libro da cui abbiamo tratto le storie fino ad oggi. Abbiamo saltato qualche giorno ed è normale perché tra raffreddori stagionali e una cosa e l'altra dobbiamo recuperare qualche giorno ma lo faremo. Oggi vogliamo introdurre il prossimo libro che andremo a utilizzare per leggere una storia al giorno e per questo libro mi accompagna oggi un ospite speciale. Vieni per favore Noa, vieni qua. Ecco! Allora il nostro ospite di oggi è una delle voci che sentite su una storia al giorno e lui è Noa e oggi ci accompagna perché oggi è il suo compleanno ed è nostra abitudine o usanza il giorno del compleanno di ciascuno dei nostri bimbi. Lo trascorriamo insieme a loro quindi se loro vogliono ovviamente stanno a casa da scuola e trascorriamo la giornata insieme facendo cose che a loro piacciono. In questo caso oggi è la giornata di Noa e Noa adesso ci fa vedere qual è il libro che utilizzeremo per le prossime storie. Si intitola, facciamolo vedere, facciamolo vedere, facciamolo vedere, c'era una volta ecco e sono le storie classiche ovviamente sappiamo che di questi c'era una volta e delle storie classiche ci sono tante versioni quindi questa è un'altra versione. Abbiamo a casa varie versioni di storie classiche e questa è una che ci hanno regalato a Natale quindi useremo questa storia. Speriamo amici di Seguendo il suo disegno che queste storie che condividiamo con noi possano incentivarvi a leggere ogni giorno con i vostri piccoli e per questo noi non vi leggiamo le storie ma vi diciamo solamente ciò che è piaciuto di più a noi o ai nostri piccoli lettori. Un saluto e tanti auguri a Noa che oggi è il suo compleanno. Grazie a tutti!